Siamo in uno stand molto particolare, quindi anche qui la scelta tra lo sposo e la sposa diventa lì, anche c'è chi piace il classico, chi piace il moderno, però qui troviamo anche l'uno e l'altro, giusto? Certo, nel nostro negozio ci occupiamo soprattutto di mobili, illuminazione, liste nozze, articoli da regalo, tutto quello che concerne l'arrenamento della casa. Cioè tutto praticamente? Tutto, tutto, tutto. Allora vengono da voi e dicono che vogliamo fare tutta la casa? Tutta la casa e noi arrediamo giustamente tutta la casa, giustamente progettiamo cucine, soprattutto camere da letto, tutto quello che concerne l'immobilio della casa, chiamiamolo così. Quindi anche illuminazione, abbiamo visto questo, noi adesso il camera ve lo farà vedere, no? Questo, illuminazione e arredamento, tutto insieme in questo caso? Arredamento, certo, anche illuminazione, tecnologia, led soprattutto, e quindi... Un letto a led non l'avevo mai visto, la notte questi dormono e hanno la discoteca praticamente. Sto volendo, volendo sia anche la discoteca. Si chiama cromoterapia. Si chiama cromoterapia? Certo. Ecco, è bella sta cosa, quindi sono tutte luci particolari. O RGB o anche luce bianca, luce gialla, luce blu, col colore, sì, o se no RGB che cambia colore in continuazione. Questa è l'ultima arrivata per la fiera. Bello, penso, è una cosa veramente molto molto particolare. Ci sono altre cose particolari con l'illuminazione, che ne so, armati che brillano. Armati che brillano, si aprono l'ante, ci sono le luci, luci nei cassetti. Solo quello c'è dentro l'armadio, non c'è altro? No, c'è la cassettiera, giustamente. No, perché sai, di solito dentro l'armadio si trova qualche altra cosa, però magari... Quello ancora devono... Lo date voi quello? No, quello no, quello no. Non è compreso nel prezzo? No, poi quello se la vedono gli sposi. Vedo che, come dicevamo, il classico e il moderno, cioè abbiamo veramente qui un po' il rustico e qui vediamo il moderno, cioè andiamo da una parte all'altra appunto ai gusti. Oggi molti ragazzi, nonostante che abbiano un ambiente moderno, abbinano anche dei tavoli classici, chiamiamoli classici, ma sono tavoli in legno che si abbinano molto bene anche al moderno. E voi dove vi trovate? Noi ci troviamo a Barcellone, via Papa Giovanni, ventitresimo, numero 100. Ok, grazie, allora insomma, grazie per averci fatto vedere queste bellissime novità e buon lavoro. Grazie a voi, grazie, arrivederci.